9-4 8-4 Grazie. Così va bene, non di più, allenta, allenta. Va bene, va bene, piccolo. Allragano bene. Ciao. Ciao. No, no, vai, vai. Sì, sì, sì. Va bene. Ciao. Ok. Vieni qua, eh. Piano piano a destra, a sinistra, a sinistra. Gamba, due, tre, uno. Capito Romani, eh? Mi raccomando, un po' di azione con le mani. Mani, mani, brava, tutti, occhi. Dallenta un po'. Dallenta un po'. Dallenta un po'. E're grande. E grande. Bravo, Bruno. Tutti movieranno. Perché fa bene, così. Grazie, tuve. mettilo bene dritto bene dritto stop avanti le mani avvi i penne la gamba interna e lo lasci in dirlo brava tre uno bene come prima avanti, avanti, avanti avanti le mani brava, così, ottimo andiamo a fare tre stop guarda il giro e aspetto gira aspetta aspetta vai bene avanti avanti, avanti controllo con le dirette guarda il giro e giro e aspetto aspetta, aspetta avanti alza mano, alza brava così, trasmetta un po' bru, siedevi dirette tutto è pure, tira un po', tira aspetta, tira il giro e teni un po', tieni un po', così lascio lascio vai avanti bene, vai ok ok yeah grazie a tutti e grazie a Brunello grazie a Brunello grazie a Brunello grazie a Brunello grazie a Brunello